E' bella, 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 tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video Oggi sto qui per farvi vedere i miei giochi Ma la schermana si vede un po' come la cosa si deve giustare Un po' è, non pensiamo per chiedere, la cosa di mio padre è scarico Questo è mio, ma quello che sto registrando E' questo E' quello di mio padre Perché ho 5 iscritti, quindi Allora, andiamo su Tocca a bocca Iniziamo con un gioco così Allora ragazzi Tocca a bocca Ok, questo è il gioco Perfetto Iniziamo A chi facciamo mangiare qui Ora gli do delle schifze Ok Giochiamo, giochiamo Eh ma questo è cosa? Paglia o è pasta ragazzi? Cosa? Paglia o pasta? Io gli do tutto Lottone 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 Ora gli faccio una spremuta di Questo Cipolla Una spremuta di cipolla Ci mettiamo tutte le cipolle Ok Ora faccio un frullato di cipolla Aspettate Frullato Eeeh Vediamo quanto sarà buono Io gli metto anche La salsa Ecco Che buono No, lo deve sputare Al secondo gioco ragazzi Questo qui proprio non mi piace Giochiamo a battle flip Ah giusto Ecco qui Ragazzi spero che vedete bene Ok Devo fare battle flip Nooo Ho perso Certo No Non scappare Scappare tra ditte Eeeh Ok Almeno un battle flip Cos'è? Tan 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 Devo Ok Chiudo Uuuu 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 Eta nooo Neanche ho fatto la partita Già perdo Non devo si credere Ok Ok Oh no Ragazzi Che cos'è questo? No No My friend No che cosa Vabbè Prossimo giorno ragazzi Eeeh Gioco dei serpenti Ok Allora questo gioco Ho fatto una partita E Non lo vanno abbastanza bene Ok Devo Devo Cercare serpenti Ecco Già un venuto contro Aiuto Nooo No 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 Perché mi esce sempre Stamplicità Chia Boh L'hanno chiamato Ok Ragazzi Eeeh Andiamo No No Ho sprecato tutto Questo era giallo L'ho sprecato No Il prossimo gioco E che amica Hanno una partita Mettiamo Ah questo è bello Vedete che è bello Ecco che non ha tutti i youtuber Però è bello Scrappiamo qua Ragazzi ci sbagliamo Questo è l'ultimo gioco ragazzi Dobbiamo fare due o tre partite Eeeh Cosa Eeeh Ah lo so Ok Ho capito già Ok Va bene What Ok Ho dettato Va bene ragazzi Questa è bella Eh Poi vi farò vedere anche gli altri giochi Che cos'è No No Si vediamo lì Si è schermata ragazzi Lo so Noi eravamo Dove Questo Qui No Questo Secondo ragazzi Ma aspettate che è un altro gioco Perché L'ho perso Che Che Buddy Vabbè ragazzi ci vediamo Ci vediamo In 4 Ciao ragazzi Ciao Ciao Ciao